ciao ragazze come vedete dall'immagine è arrivato il mio pacco di cocoadesi notate le condizioni dopo aver passato qualcosa come 24 giorni in giro per l'italia sì perché oggi è il 31 di luglio il mio pacco appena arrivato ma era in italia dal 7 di luglio perché coco facendo parte io dalle senti l'ha spedito prestissimo questo mese il 30 di giugno in una settimana ha fatto il giro di tutto il mondo poi ci ha messo tre settimane ad arrivare da milano a treviso quindi vabbè tutto bene quello che finisce bene il contenuto integro ho aperto al volo prima giusto per dare una controllatina perché vista le condizioni avevo preso un sacco di paura allora come il mese scorso c'è questa carta che la referi card che spiega come i vantaggi nel invitare un amico casomai se avete bisogno delle citazioni è una cosa potete fare anche con me quindi dare il mio nome avete un buono da spendere sullo shop la carta del mese appunto di questo kit molto floreale mesi di agosto un po diverso come genere e detto questo comincio vi faccio vedere subito i due kit più piccolini che sono questi qua uno l'ho aperto perché ho sempre difficoltà con la pellicola che lo contiene col sacchettino ed è il scusate rovescio il kit degli sticker del memory keeping sticker sono questi fogli di sticker sono pensati subito per il memory keeping in p planner o nella rincontra ma io tranquillamente li utilizzo anche nel tn o negli altri progetti che faccio in genere c'è sempre come potete vedere almeno un alfabeto delle scrittine utili e poi questi riquadri di questo genere e le scritte in bello da un paio di mesi c'è anche questa fogliettino più piccolino con scritte sempre sempre molto utili l'altro kit piccolino è il classifiant che quindi è questo kit a sorpresa che arriva ogni mese senza svelare il contenuto e comunque solo in parte e generalmente contiene cose che non sono esclusiva coco adesi o almeno non tutte infatti questo mese abbiamo questa carta in legno con già visto già sui social qualcuno l'ha già sfoggiata poi dei dai cazzo non sapete in un mix dai cazzo poi vi faccio vedere i disegni contenuti delle scritte coloratissime io queste scritte le utilizzo veramente tanto tantissimo ne applico sulle foto sui progetti ovunque e i chipboard eccoci qua e questo appunto è il classifiant quindi non esclusiva coco adesi ma una serie di prodotti vengono messi insieme per che stanno bene col kit da utilizzare nei vari progetti che fate detto questo cominciamo con il mio kit preferito che è sempre quello del tn e apriamo insieme allora beh come sapete questo kit contiene alcune cose che si ripetono mese dopo mese alcune cosine che invece variano come tipologia o contenuto e ecco qua se vi abbonato al kit travel e snapbook cosa vi arriva questo mese almeno arrivano le pittine anche questo è sempre utile un uoci questo qui l'ho aperto per poter velo far vedere meglio prima quando ho controllato il contenuto ed è un uoci effetto plate poi abbiamo tantissimi dai cazzo li vedete qui dietro ho visto che ci sono ben due sacchettini di dai cazzo misti con tabbe varie cosa che mi fa molto piacere perché dai cazzo non sono mai abbastanza questo mese invece del classici in amelto ci sono queste a forma di stellina sempre glitterati poi un timbro in questo caso non lo vedete benissimo perché questo qui come design team io ho avuto proprio il timbro diciamo campione però spero che si capisca abbastanza questo mese i timbri sono creati da kelly stamps che è l'altro design team di cui faccio parte perché kelly tra l'altro è una del design team cocco insomma è tutta una grande famiglia l'intertambio se vi interessa vedere un po i timbri che fa kelly potete iscrivermi guardare il mio profilo instagram dove ci sono tutti i link oppure anche il profilo facebook novità scrittine bellissime e papi sticker che vi ho mostrato mentre vi parlavo dei timbri come fatti abbiamo anche l'alfabeto che è un prigion tre cite quasi nero per fortuna che è arrivato perché c'era anche nel mese di giugno e l'ho praticamente finito altra novità di questo mese è un vellum perfetto come misura vedete del travelers notebook non vedo l'ora di utilizzarlo ovviamente il tn per mi mostro al volo le carte che poi non vi mostrerò più nel prossimo kit memory keeping e spogliamo velocemente insieme vedete che nel travelers notebook sono due per tipo quindi potete usare sempre tutti i fronte tutto il retro mentre invece nel kit pocket che vedremo fra poco sono solo una tipologia c'è ovviamente anche il foglio ispirazione su come per darvi delle idee sui layout eccoli qua con anche lo sketch del mese e poi il tn vero è proprio che lo sfoglio insieme a voi non ho ancora guardato come sapete il tn si compone sempre di pagine decorate alternate a altre pagine invece che rimangono lisce come questa a quadritti dove potete applicare le carte del kit utilizzare altri materiali colorarle usarle bianche insomma timbrare è una carta talmente buona questa qui del del travelers notebook di cocoa che potete utilizzare anche i mix media io per esempio appena finito di fare un progetto che uscirà sul blog di cocotra qualche giorno facendo mix media direttamente su questa carta se riesco vi faccio anche un breve video passiamo al prossimo kit intanto mi sto girando perché puntualmente se appoggio tutto su questo micro tavolino mi cade poi tutto per terra quindi se mi perdete ogni tanto per questo questo è invece il kit pocket pocket memory keeping kit si chiama pocket perché contiene le card quindi è il scusate il rumore altro più velocemente possibile è il kit per chi fa project life ma anche chi fa mini album per esempio proprio oggi è uscito il video qua sul canale se volete dare un'occhiata di come ho creato un mini album utilizzando proprio le card di questo del kit di luglio quindi però questo formato di card come struttura proprio per fare il mini album insieme alle tab un sacco di idee ho alternato queste carte grandi che arrivano quindi ogni mese alle carte queste più piccoline ovviamente trovate il dettaglio di tutte le carte sul sito di coccoa dove le vedete meglio io da una carellata veloce ma sono talmente tante che poi è difficile senza stare qui tutta la giornata mostrarvele bene oltre alle carte alle quali potete abbonarvi anche solo nelle carte senza fare il kit se invece prendete il kit avete tutte queste cosine qua un po sci questo è un pochino più sottile poi anche qua vedo doppi dai cazzo quindi secondo me è una cosa voluta per dare più opzioni decorative poi un altro sacchettino di dai cazzo in questo caso vediamo anche il dettaglio sul retro poi abbiamo una tag le tag sono una grossa passione di christine quindi ci sono praticamente sempre poi invece questi che si ripetono come nel kit tn il timbro sempre timbro disegnato da kelly stamps in questo caso anche la parte nera così ve la faccio vedere proprio bene patti sticker l'alfabeto patti nel color giallo molto acceso quasi un senape come un giallo sole le carte che abbiamo già visto sono uguali a quelle del tn solo che appunto in questo caso ne avete solo quattro nel pocket memory keeping kit invece di 8 e poi ho lasciato per ultime degli abbellimenti nuovi che non ci sono abitualmente sono queste scritte in plastica proprio grossa vedete che io adoro se ci fossero tutti i mesi ci metterei la firma e poi questi piccoli bellum da quello che intuisco eccole qua a forma di card quindi ovviamente essendo un memory keeping kit per fare il project life con le card avete anche le carte in vellum quindi semi trasparenti molto molto belle mi piacciono tantissimo allora metto via anche tutte queste cosine qui al volo per farvi vedere l'ultimo kit l'ultimo fit è il kit planner il planner anche fa scusate un po di rumore del sacchettino vi faccio vedere tutto il contenuto eccoci qua allora il planner nel mio caso è un kit planner in versione personal dopo vi faccio vedere le paginette e qua invece tutto quello che vi arriva a questo mese al mese di agosto col kit planner la penna un washi molto bello questo che riprende tutto il kit che si combina benissimo con gli altri una clip in ecco una cosa che non amo questo mese sono sincera è il sono i dettagli roscold è una cosa che proprio a me non piace però vediamo di combinarci qualcosa il bloc note piccolino poi questi sono i dai cazzo con le tab che ci sono tutti i mesi insieme alle tab avete anche gli sticker poi per mettere i titoli sulle tab nella vostra agenda un bloccone grande anche questo c'è sempre il refill per la penna in modo da non rimanere senza inchiostro poi come abbiamo già visto nei due kit memory keeping gli animal dots a forma di stellino fiorellino devo ancora decidere tutte le da tutte e tutti i numeri e i giorni della settimana per datare le pagine che ve lo ricordo sempre i ref il cocoa non sono datati tranne la visione mensile poi abbiamo le carte queste qui sono una 5 doppio quindi un pochino più grande della 4 e le fantasie di questo mese sono queste il retro è così sono fatte in questo formato in modo che potete per esempio rivestirci un tn senza dover usare carte diverse oppure se no le potete tagliare a metà e usare come dashboard in una 5 o tagliare più piccole negli altri formati le trovo super comode io le utilizzo anche per i progetti scrabuffing 30x30 perché la larghezza permette di coprire tutto il 30x30 questo mese nel kit principale planner c'è l'astuccio che a volte qui a volte nella donna a volte nel classico e a volte non c'è nemmeno quindi non ha detto che ci sia tutti i mesi con la sua una pina che è sempre staccabile quindi potete anche utilizzarla come decorazione planner da sola senza astuccio e poi ci sono le pagine queste qui che vi dicevo in formato personal io le scelgo in questo fermato senza averle bucate perché posso utilizzarle come voglio quindi posso metterci farci i buchi per il personal posso crearmi il tn unendo le pagine posso metterci gli anelli quello i dischi per le planner quello che desidero in questo caso come sempre cinque settimane così su una pagina con il retro per le notte poi abbiamo cinque settimane su due pagine eccoci come poi abbiamo le pagine giornaliere coloratissima questo kit mette un sacco di allegria e qua in mezzo devo essermelo perso il calendario mensile eccoli qua come vi dicevo il calendario mensile e la dashboard iniziale con calendario sono le uniche due cose che hanno la data legata a questo mese tutto il resto potete utilizzarlo quando volete direi che ci siamo un bacione a tutti fatemi sapere se avete qualche domanda ciao